buongiorno un po di tempo che non ci sente ho pensato potesse essere utile mandarvi questo video messaggio sono tempi difficili sicuramente per tutti e aspettiamo tutti che questo momento passi senza sapere bene ancora né come né quando e come ne usciremo molti dicono sarà molto lavoro dopo per voi psicologi non sto pensando questo praticamente sto pensando a tutta questa situazione nella quale penso sia molto facile per tutti sentirsi privi di una direzione di una guida di un orientamento di un di un segno che ci possa aiutare aiutare a capire comprendere non ho molto da aggiungere voglio ricordare a tutti semplicemente alcune cose che mi sono sembrate sensate fin dall'inizio le ha pubblicate the lancet forse la più prestigiosa rivista scientifica mondiale in tema di medicina ricerca sulla salute e in questo articolo parlando della delle delle abilità delle questioni necessarie di ciò che fosse necessario per resistere all'impatto di una quarantena il lancet pubblica in queste linee guida dice ricercate delle informazioni e qui viene il primo problema cosa significa ricercare le informazioni le formazioni di cui ha sentito di avere bisogno le informazioni che vi fanno stare bene non non conta qui tanto che siano vere non vere perché questo in questo momento soprattutto è un argomento di una tale delicatezza che intervenire su che cosa sia vero e cosa sia falso ammesso che sia una domanda ancora sensata è veramente complicato quello che conta è reperire informazioni farsi un'idea accertarsi fino all'ultimo che quella informazione non sia destituita di ogni fondamento abbia un granello di solidità di attendibilità e farla propria continuare ad alimentare la propria attività cognitiva la propria affettività anche attraverso le informazioni la seconda la seconda cosa è fare in modo che in casa siano presenti i supplies le forniture ciò di cui abbiamo bisogno quindi il cibo i materiali utili alla protezione individuale alla sanificazione igienizzazione degli ambienti quindi tutto ciò che serve per alimentare il nostro benessere anche quello fisico oltre che emotivo quindi va da sé che reperire anche materiali che possono essere utili a occupare il tempo e non a preoccupare il tempo ebbene quindi se leggete fate in modo di avere libri riviste o utilizzate il web ma l'importante è avere ciò che serve a nutrire il proprio benessere e veniamo al numero 3 combattere la noia la noia è forse il nemico più insidioso in questo momento quindi non tanto tenere come dicevo prima la mente preoccupata o semplicemente occupata da ciò che è necessario fare in modo di occuparsi delle cose che da tempo magari abbiamo lasciato da parte che possiamo riprendere che possiamo coltivare dalla sistemazione del balcone con le piante all'archiviazione di materiali alla ripresa di materiali che dovevamo sistemare eccetera ma in qualche modo lasciare che la noia occupi solo una parte minima del nostro tempo ma mi sento di sottolineare la quarta cosa che era più importante ultima ma non ultima la comunicazione comunicare con le persone ogni volta sia possibile ecco perché sono anche deciso a pubblicare questo video che invio a voi a tutti coloro che stanno frequentando il mio studio in attesa di rivederci ecco non perdete la l'abilità di comunicare di dire le cose di esprimere le cose che state provando in questo momento molto difficile per tutti ma anche per chi sta parlando non è un momento facile un momento facile noi stiamo cercando di continuare a lavorare anche attraverso il web sedute lezioni corsi ma l'atmosfera non è sempre facilmente gestibile però vedo in tante persone anche la volontà di utilizzare quello che c'è per far sì che ne possa uscire il meglio possibile ed è questo che auguro a tutti voi un saluto e un abbraccio dal dottor bianchini con l'augurio di rivederci quanto prima arrivederci a tutti